Oggi la settantaduesima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro sono in calo in Italia, ma nei primi otto mesi sono già 677 le vittime. I numeri delle vittime degli incidenti sul lavoro sono allarmanti, drammatici. Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita, è inaccettabile in un paese moderno. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Quasi 3 al giorno nei primi otto mesi del 2022, 677 in calo rispetto alle 772 dello stesso periodo del 2021. I dati dell'Inail mostrano quasi 500.000 infortuni nel periodo gennaio-agosto, 2.000 al giorno in aumento del 38,7%. La sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione dovrebbe essere una priorità, dichiara il Presidente nazionale Anmil Zoello Forni. Per il Ministro del Lavoro Andrea Orlando non possiamo rassegnarci a una logica quasi di assuefazione alle continue notizie di incidenti. Incidenti che, spiega il Capo dello Stato, raccontano storie di vite spezzate, famiglie distrutte, persone gravemente ferite, uomini e donne che invocano giustizia. Livia Zancanera, Radio 24, il Sole 24.